Le prove invalsi sono test standardizzati, ovvero uguali per tutti, basati su procedure articolate e rigorose per gli studenti delle scuole italiane. Tutti gli istituti scolastici d'Italia, per le classi seconde e quinte elementari, prime e terze medie, e in tutte le seconde e superiori, devono effettuare le prove, poiché sono obbligatorie per legge. I test sono elaborati dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione, invalsi, enti di ricerca di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Lo scopo dei test è quello di tracciare un quadro di riferimento statistico sul livello di apprendimento in Italia, in riferimento all'italiano e alla matematica. Con le prove invalsi è possibile monitorare il Sistema Nazionale di Istruzione e confrontarlo con le altre realtà comunitarie ed europee. Le rivelazioni su scala nazionale servono anche a identificare i punti deboli del sistema di istruzione e permettono quindi al MIUR di predisporre eventuali interventi sulla scorta di dati oggettivi. Tutte le prove includono domande di difficoltà variabile. Non è certo una scelta casuale, ma si basa su un preciso modello scientifico-statistico di riferimento, quello del danese George Rush, molto usato ma anche molto criticato. Ogni domanda corrisponde ad una complessa griglia di misurazione che valuta per ciascuna risposta la sua coerenza secondo schemi matematico-statistici. L'obiettivo di un test standard, come spiega l'invalsi, è quello di misurare i risultati in base ad una scala di abilità competenza molto lunga, dai gradini più bassi a quelli più alti. Per questo, in una stessa prova, ci sono anche quiz molto difficili ai quali solo pochi alunni sanno rispondere. Ogni alunno è identificato da un codice alfanumerico. Solo i professori coinvolti e incaricati di seguire i test conoscono a quale nominativo corrisponde. Le risposte degli studenti sono riportate su una speciale maschera elettronica con solo il codice alfanumerico e poi inviate all'Istituto Invalsi per la elaborazione dei dati. Accanto ai test di italiano e matematica per la quinta primaria e la seconda delle superiori è previsto anche il questionario studente. La sua compilazione serve a raccogliere, sempre in forma anonima, informazioni sul contesto e il percorso dell'alunno. Questi dati sono molto utili per l'Istituto Invalsi al fine di analizzare il rapporto tra il livello di apprendimento delle diverse classi, scuole e regioni e i fattori socio-economici. In ogni caso è possibile per gli alunni decidere anche di lasciare le risposte in bianco. Gli esiti dei test formiscono agli insegnanti un quadro di riferimento globale sulla classe e sulla scuola e sono utili per aggiustare il tiro laddove si siano evidenziate maggiori difficoltà. Quindi i docenti non possono usarli per la valutazione, ovviamente nel caso della terza classe delle medie è diverso perché il test è parte dell'esame di Stato. Contro i test e il loro significato e il loro scopo si crea ogni anno un movimento di opinione contrario sostenuto dalle componenti scolastiche, in particolare da insegnanti e genitori, con le motivazioni più varie. Grazie. Grazie.